Quattordicesimo giorno di mobilitazione da parte dei lavoratori dell'indotto del diretto della raffineria Eni di Gela a seguito del mancato rispetto del protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 che prevede l'avvio del processo di riconversione per la produzione di biocarburanti, degli eventi di bonifica delle aree dismesse e la creazione di nuovi posti di lavoro per il personale dell'indotto fermo da tre anni. Da questa mattina presidio lungo la strada statale 115 in Contrataburgio nei pressi del Bivio per la 626 Gela a Caltanissetta. Lunghe colonne di mezzi si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. La zona è presidiata da polizia e carabinieri. Stiamo continuando affinché cerchiamo di avere sempre risposte per quanto riguarda il rispetto del protocollo ma più che altro per fare un recupero di queste ritarde che ci sono. Quindi chiediamo alle istituzioni e anche a Leni di cercare di recuperare questi ritardi affinché togliamo anche le persone di mezzo alla strada. Non molliamo, siamo forti e tenaci noi con l'indotto quindi ci siamo uniti oggi all'indotto appunto per questa protesta per alzare il tono di voce, per farci sentire da chi di dovere e darci finalmente risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di questo per noi stessi, per la nostra città, per il nostro territorio. Questa è la vertenza Gela. In questa vertenza non ci può essere né diretto né indotto. Questa è la vertenza del territorio. Questa vertenza la si può risolvere solo ed esclusivamente con l'attuazione del protocollo del 6 novembre il che porterebbe alla realizzazione dell'agri-refanere e a tutti quei progetti inerenti all'upstream e potrebbe finalmente riportare al lavoro centinaia di lavoratori restituendo la dignità del padre di famiglia perché quello che ne risente è il territorio di Gela perché vediamo che l'economia gelese ormai è a stracollo. Intanto ieri il Vescovo di Piazza Alberdina, Monsignore Rosario Gisana, ha incontrato i lavoratori dei blocchi di Ponte Olivo sulla Gela Catania vicino alla sede direzionale di Enimed portando una parola di conforto dopo 13 giorni di lotta per la ripresa produttiva della raffineria e per il lavoro. Vi assicuro, ha detto Gisana, che nelle quattro volte che ho incontrato Papa Francesco io ho sempre parlato dei problemi dei lavoratori di Gela che non sono di oggi ma che si trascinano da tempo e tutte le volte mi ha detto di stare vicino a voi. Il fatto di essere qui nasce da una mia sensibilità personale ma soprattutto sul mandato del Papa. Poi Monsignore Gisana si è schierato apertamente con le maestranze e con i sindacati esortandoli a resistere e dicendosi pronto a stare in trincea con loro.